le notizie radio televisione svizzera rete 1 sono le ore 14 in studio con voi nenat gregor il notiziario il coronavirus è arrivato anche nel continente africano lo reso noto ieri sera il ministero della salute egiziano che ha registrato un primo caso nel paese il paziente è uno straniero che non presenta sintomi della malattia è ricoverato in ospedale in quarantena l'organizzazione mondiale della sanità afferma che il coronavirus sarebbe una capacità di diffusione superiore a quella stimata il numero di persone che possono essere contagiate da un soggetto infetto sarebbe in media pari a 3,98 abbiamo dovuto stoppare nenat fa niente